Sembra tristamentissima. Ok, guarda, sentimo a me, sentimo a me. Io non voglio sentire più. No, Presidente, mi deve far parlare. Mi senti, mi faccio parlare. No, no, tu hai parlato per un anno. No, tu hai parlato per un anno. Io non... Tu non sei... Non sei... Al posto di darmi romanzini a me. Se sei... Noi abbiamo avuti... Noi abbiamo avuti... di offendere i giornalisti. È chiaro che questo è. Lei non si può permettere di offendere i giornalisti. Non può dire che i giornalisti sono sociali. Tu vedi che tu hai un cartellino rosso. Io sto... Io sto fando... Io mi sto guardando... I miei interessi come tutti i tuoi. Lei non può offendere nessuno. Ma palla, va.